Disney Junior presenta un magico momento musicale di Dottoressa Peluche. Dotti è qui e questo significa che... Diamo un'occhiata, diamo un'occhiata! Con una visita scoprirò se stai bene o no. Diamo un'occhiata! Devo capire che succede e così ti curerò. Diamo un'occhiata! Ridi pure un pochino, se ti faccio il sole pichino. Diamo un'occhiata, diamo un'occhiata! Questa è la canzone preferita di Dotti e dei suoi amici giocattoli. È anche la tua? Divertiti con tanti magici momenti musicali e segui la serie Dottoressa Peluche a Disney Junior.